Il corso base su Revit si concentra sulla modellazione di un esercizio completo da partire da un file CAD bidimensionale, la costruzione del modello con oggetti quindi BIM, la loro caratterizzazione estetico grafica fino alla realizzazione di tavole finali e le varie forme di esportazione. Si tratta di una trattazione volutamente basica per chi non ha mai preso in mano uno strumento come Revit ma vuole toccare con mano la potenza di uno strumento veramente BIM, nativamente BIM, che funziona in modo totalmente parametrico. Quindi questo videocorso con 21 lezioni, 5 ore totali di video, quindi sono delle mini lezioni di 10-20 minuti ciascuna. Potrei sperimentare e fare domande, risponderò in continuazione sul forum come avviene da anni in realtà, a tutti i cosiddetti che ti verranno in mente. Quindi se vuoi provare ad abbracciare la strada del BIM, vedere quante porte si aprono di approfondimento, il computo, il render, le animazioni, le varianti, le fasi, veramente si spalancano una serie di utilizzi che si possono poi fare del modello, il videocorso base può essere quello che fa per te. Grazie a tutti per aver guardato il video.